Come annunciato a fine maggio con ordinanza, il sindaco di Nicosia, dottor Sergio Marfitano, ha proclamato per il 2 giugno Festa della Repubblica, il lutto cittadino dopo la chiusura del carcere, l'ennesimo scippo dopo la chiusura del Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate e della Serit, che rende ancora più isolata e senza servizi primari, Nicosia ed il suo territorio limitrofo. Una situazione divenuta insostenibile, che non crea disagi solo ai cittadini costretti ad andare ad Enna per risolvere alcuni problemi quotidiani, ma mette in ginocchio l'economia di un'intera città, che vede perdere posti di lavoro e famiglie costrette a trasferirsi in altri luoghi. Nel Palazzo Comunale, a mezz'asta, le tre bandiere, il tricolore, che rappresenta l'Unione Nazionale, la bandiera dell'Unione Europea ed il vessillo della Regione Sicilia. Anche il sit-in, che da oltre 40 giorni è stato istituito nei pressi del carcere di Nicosia, è listato a lutto. Un drappo nero con su il tricolore rappresenta la morte annunciata della città, di fronte all'indifferenza delle istituzioni. Anche il tempo non è clemente, piove, anche dal cielo cadono delle lacrime su Nicosia abbandonata dallo Stato, sordo ad ogni richiamo, sordo ad ogni grido di dolore di un'intera popolazione.